Il salone del mobile è veramente un percorso di grandissimo interesse, ma naturalmente abbiamo dovuto necessariamente fare delle scelte perché fatto di tanti e tanti padiglioni delle firme più belle. Ci fa da guida, come nella prima parte, un grande architetto, quale Dante Benini dello studio Dante Benini and Party. Durante questo pellegrinaggio non potevamo non fermarci alla BK. La BK è una società di divani letto che nasce producendo tutto in house, quindi da tutti i meccanismi, compresa la progettazione, fino all'imbottito, fino al taglio, fino ai tessuti ed è stata inventata dal più grande grafico mai esistito, credo, nella storia dell'uomo che è Massimo Vignelli, scomparso il maggio dell'anno scorso. Dove diventa la mia autocelebrazione del perché ci siamo fermati? Perché abbiamo disegnato questo divano che ha la caratteristica ovviamente di essere un divano letto singolo, quello dall'altra parte è un divano letto matrimoniale e la prerogativa di questo divano è che si apre, si chiude, è un enorme contenitore, ha questo recliner dietro la schiena che permette di avere il portale letto inclinato a seconda dell'ergonomia della seduta fino all'ergonomia della lettura quando diventa letto. Siamo conosciuti in tutto il mondo per essere bravi a fare i divani letto, quindi per noi è determinante da una seduta normale, confortevole, tirar fuori un altro tanto normale e confortevole letto. I cappè Italia sono fondamentali perché sono dei prodotti di altissima qualità e sono trasformabili, cosa che nel mercato italiano è difficilissimo da trovare. Grazie a tutti per aver guardato il mondo per aver guardato il mondo per aver guardato il mondo